Ciao amici! Come state? Io sto benissimo! Sono in partenza per le vacanze! Non vedo l'ora! Questa volta ho deciso di dividere la lezione in tre video. Vi insegnerò alcune frasi utili per chi viaggia in aereo. E ora devo scappare, altrimenti perdo il volo. Partiamo col primo video. Buongiorno! Buongiorno! Potrei avere il suo biglietto e un documento di riconoscimento? Certo! Eccoli! Grazie! Ok, quanti bagagli vuole imbarcare? Solo una valigia e lo zaino come bagaglio a mano. Il bagaglio a mano non deve pesare più di 5 kg. Lo ha già pesato? Sì, è a posto! Vuole un posto vicino al finestrino o interno? Interno, grazie! Ok, solo un momento! Il suo posto è il 64D. L'uscita per l'imbarco è la A3. Buon viaggio! Mi scusi, perché ora è previsto l'imbarco? L'imbarco è previsto per le 19.15. Ok, grazie! Arrivederci, buon viaggio! Bene amici, in questo primo video riguardante le frasi in italiano, da dire in aeroporto, abbiamo imparato come comportarsi al banco accettazione, al check-in. Ora possiamo capire alcune frasi che potrebbe chiederci l'hostess. per esempio potrei avere il suo biglietto potrei avere la sua prenotazione potrebbe darmi un documento di riconoscimento che sia passaporto o carta d'identità ci potrebbero chiedere anche quante valigie vuole imbarcare ha anche del bagaglio a mano preferisce un posto vicino al finestrino o al corridoio ok, se avete domande scrivetele sotto nei commenti ora potete guardare il video numero 2 riguardante il controllo bagagli trovate il link in descrizione ciao ci vediamo nel secondo video ciao